e pensate a 2.15.44, 2.11.33 per il Brasile che concludono in grado di giro Stana, l'atletico a Scambiano e al Pabello. Dal Brasile, dalla Corsa di Gata, Michel Dasciagas. Il premio, che riceve il premio direttamente dal nostro vice sindaco, Ivo Rossi. Complimenti a Francesca Penocchio, questo l'applauso di Padova. E dunque ancora un grandissimo applauso quando facciamo le foto di Rito, in chiusura di questa premiazione per Landbike femminile. Monica, Borelli, Rita, Cucù. 5.001, il numero del presidente di Assi Industria Sport, Federico De Steppini, 5.002, il numero di gara del sindaco di Capodalcego. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3 ore!